ciao ciao quanto costa il guano piccolo? 2.50 2.25 non c'è niente di meno? 2.20 grazie grazie cosa vuoi? Cono per favore grazie con un po di cioccolato e crema si grazie e crema si grazie grazie molto gentili grazie mille arrivederci oh è in mezzo però dai buttalo perché lo ricompro io dai buttalo perché lo ricompro io cosa signora? buttalo perché lo ricompro io davvero? si si grazie è il gelato è il gelato e adesso glielo devo fare di nuovo fa due giorni grazie gentilissimo grazie mille grazie signora veramente molto gentile grazie vuoi dire che avanzano il tempo? no signora addirittura devo fare il gelato si si no allora guarda c'è una telecamera che sa riprendere tutto quanto ho fatto un esperimento sociale capito? e una mi piace riprenderti sempre no no ci mancherebbe guarda allora io mi sono messo in queste condizioni apposta capito? ma lo mangio grazie di cuore grazie